e questo video vuole essere la continuazione del video che ho fatto qualche settimana fa dedicato al cross neozelanda dollaro su yen, quindi neozelanda yen ne avevo già parlato circa verso metà luglio, avevo iniziato questa operazione qui c'è il grafico come potete vedere e in questo caso volevo fare la continuazione per farvi capire un po' come sto lavorando su questo trade che come dicevo nel momento in cui sono entrato con una prima posizione è un trade che ha una view di fondo un pochino più lunga rispetto alle classiche 3-4 giornate o settimane che solitamente vado a fare, quindi in questo caso sono entrato sulla prima posizione vi ricorderete dal video precedente che comunque trovate ancora qui sul canale qualche video fa ero entrato qui nel momento in cui c'era stata una price action di un certo tipo e poi come potete notare ho incrementato il mio posizionamento andando ad inserire due nuovi contratti in momenti separati non è detto che possa farne, ho ancora spazio insomma, sono molto molto basso come rischio al momento però il tipo di trade è sicuramente interessante perché l'idea è quella di andare a prendere dei livelli abbastanza ampi all'epoca appena ho fatto il primo trade, cioè la prima operazione, dicevo appunto che l'idea era quella di andare a prendersi profitto sulla zona alta, diciamo zona 83-82-90 che è la zona questa qui molto molto importante di vendita dove la coppia neozelanda yen proprio nel 2016-2017 poi vediamo a metà del 2017 aveva avuto proprio le vendite forti in realtà anche prima. Quindi vedendo un po' la struttura di price action di questo mercato tutto quello che poi ha fatto nell'ultimo periodo è possibile che il mercato un po' alla volta possa arrivare io quindi sono abbastanza tranquillo e paziente, ovviamente il primo obiettivo saranno le zone queste qui di massimo precedente quindi da area 78 area 79-70-80 e in questo ultimo mese quando ero entrato la prima volta praticamente su questa zona ho fatto due nuovi trade. Il primo è arrivato qui vedete su questa zona ho quindi incrementato il mio posizionamento con un ulteriore contratto neozelanda yen su una ulteriore price action quindi una classica pin bar last kiss che si era venuta a formare proprio con falsa rottura dei minimi precedenti su una zona di domanda molto forte zona supportiva tecnica quindi dove la price action è stata perfetta qui con un classico segnale dei miei che utilizzo da sempre e quindi sono entrato ancora perché ero entrato inizialmente molto molto leggero e l'idea infatti anche all'epoca quando feci il video dissi proprio che l'idea era quella di incrementare poi magari se c'erano le opportunità quindi ce n'è stata una il mercato ha iniziato subito a salire per poi ritracciare poi crearmi in realtà un ulteriore price action ma non ho voluto subito incrementare qui e poi ho incrementato qui ieri si è venuta a creare tra l'altro un FTV eccola qui un FTV classic doppio minimo higher che al momento sta portando nuovamente sui prezzi complice ovviamente un neozelanda dollaro contro dollaro americano e un dollaro americano contro yen giapponese che sono i due cambi che formano questo cross che stanno vivendo un periodo assolutamente long o comunque il dollaro sta tenendo un buon supporto 0,69 0,70 e il dollaro yen ormai diciamo ampiamente bullish e addirittura sta andando verso l'obiettivo che di medio termine per me è 112 quindi anche 114 quindi questa situazione qui il neozelanda yen che è un assolutamente un come dire un po' il figlio dei due un po' il prodotto ecco dei due non può altro che far delle salite quindi crescere e in questo caso direi che è assolutamente quindi interessante mantengo questa posizione quindi ci sono state svariate price action che mi stanno indicando e mi stanno confermando un mercato in evoluzione long non è detto che possa continuare a fare un ulteriore non solo un ulteriore anche di più incrementi cioè altri incrementi su questa posizione di spazio diciamo ne ho anche in questo momento sto con un rischio molto molto basso rispetto al mio capitale e quindi in questo caso direi che ci sta tutto adesso l'idea è quella comunque di aggiornarvi rispetto a questa posizione perché è sicuramente interessante anche a livello di studio didattico per chi vuole approcciare questa metodologia di lavoro nel trading quindi con la price action quindi guardando esclusivamente quello che ci dicono i prezzi per fare trading quindi vedremo come si evolverà vi farò magari tra una ventina di giorni tra un mesetto vedremo un po' come si sarà evoluta e ve la mostrerò questa posizione per come si sarà appunto evoluta come dicevo prima adesso attendo ovviamente un arrivo verso questa zona qui 78 e mezzo 78 e 40 da qui magari mi potrei aspettare un ulteriore swing per poi magari un ulteriore allungo quindi la seguirò ovviamente sicuramente un po' più di medio quindi sul weekly principalmente ma andrò a osservare bene il daily perché il daily mi ha permesso di fare degli incrementi e quindi se volessi addirittura incrementare ancora la posizione che ripeto a livello di rischio posso farlo assolutamente lo farò ovviamente con delle price action come quella per esempio che si è venuta a creare qui oppure qui oppure qui perché sono tutte price action di un certo tipo quindi per finire ecco si nota come il mercato da dove ho iniziato a comprare io che era un movimento ribassista nel breve come si può notare dal grafico daily ma era un ritracciamento al momento guardandolo un po' più di ampio respiro perché se lo guardavamo sul grafico settimanale che ci mostra la view di fondo notiamo come questo è un ritracciamento di questa fase long in realtà poi nel giornaliero quindi era una fase discendente una fase dove si stava indebolendo il cross ma che ha trovato un supporto proprio su dei livelli chiave stanno 50 76 76 20 e da qui adesso vedete è ritornato un movimento anche nel breve bullish quindi il mercato è iniziato a fare degli swing low dei swing high degli swing low degli swing high quindi il mercato è iniziato a muoversi più verso l'alto anche nel breve termine anche in un'ottica un po' più di qualche giorno questo è assolutamente ottimale perché questo significa che il mercato sta cambiando la fase di ritracciamento in una in una continuazione di quel movimento long che mi aveva permesso anche di capire questo tipo di cambio aveva ancora possibilità di salita e quindi questo quindi vedremo un po' l'evolversi adesso obiettivo iniziale ovviamente senza prendere profitto diciamo 78 70 l'idea sarebbe e qui già vedete ci sono delle aree chiave l'idea sarebbe quella di portarsi almeno tra 79 20 79 15 e area 80 che diventa la zona di massimi precedenti guardando il settimanale potete ben capire che questa qui è un'area sicuramente calda però per come si sta impostando per come si è impostato ricordiamoci anche tutta la price action sul weekly ovviamente che mi ha confermato quello che poi ho voluto fare l'idea è vedete di andare di arrivare molto più in alto abbiamo un'altra area 81 dove nel passato 2018 gennaio 2018 c'era stata questa area di offerta di neozelanda yen però vedete come l'area più importante diventa questa probabilmente questa zona credo possa essere testata se dollaro yen andrà verso area 114 principalmente 113 80 e il dollaro neozelandese sul loro americano dovesse andare intorno almeno a 0 73 e mezzo che cosa significa andiamo a vedere dollaro yen eccolo qua prendiamo weekly così dovesse andare in area 114 113 80 cioè la zona che passa qui che come potete notare è assolutamente una zona importantissima di di offerta di dollaro yen e che per come si è creata un po tutta la dinamica dei prezzi quindi tutta la price action sembra un po alla volta è sto dicendo nel tempo poterne andare verso di qua e il neozelanda dollaro che oggi vede tra l'altro una giornata positiva andiamo su settimanale anche qui vedete che aveva fatto una bella price action ho fatto anche qualcosa qui tra l'altro verso area 73 73 e 50 ma anche 73 quindi praticamente i massimi di questo trading range ormai di qualche mese facciamo proprio un calcolo magari prendo la calcolatrice per farvi capire se il dollaro yen dovesse andare verso i 113 80 moltiplichiamoli per il 0 73 che è la zona questa qui di eccolo qua di neozelanda dollaro vedete che moltiplicando i due che sono i due cambi che formano il cross viene proprio area 83 83 andiamo a rivedere che cosa significa su neozelanda yen sarebbe la zona questa qui 82 80 83 quindi diciamo che i movimenti al rialzo di dollaro yen neozelanda dollaro nel prossimo futuro cosa che credo possa avvenire uno yen molto debole e un neozelanda che ha tenuto anche in questo rafforzamento di dollaro dell'ultimo periodo potremo tranquillamente credo ovviamente con un po di pazienza vedere quel livello quindi vediamo potrei anche rimanere con questi tre contratti potrebbe essere che riesca a aggiungerne e scalare per andare verso quella zona bene per oggi è tutto volevo appunto far vedere questo video per aggiornarvi dell'operazione per capire anche un po i ragionamenti che ho fatto relativi al cross e neozelanda yen alla price action sul cross e a quello che è la price action e le mie idee sui due cambi che la formano io vi saluto vi auguro ovviamente un buon una buona giornata un po trading simple vi chiedo ovviamente se vi è piaciuto il video di lasciare un mi piace di iscrivervi a questo canale se ancora non siete iscritti per così avere vedere tutto quello che facciamo se il trading con la price action vi può piacere e può darvi del supporto nel vostro trading e di attivare la campanella perché attivando la campanella riuscite ad avere tutte le notifiche dei video le live le cose che facciamo qui sul canale youtube io a questo punto vi saluto vi auguro una buona continuazione e ci vediamo presto ciao